e ciao a tutti in questo video vedremo dove si trova e come poter completare una delle prove di merlino presenti nella regione di feldcroft vi informo che portare a termine proprio le prove di merlino ci darà la possibilità di sbloccare maggior spazio nell'equipaggiamento quindi vi invito veramente a fare queste prove detto ciò vi ricordo anche che sul canale è presente una playlist che raccoglie tutte quante le prove di merlino presenti in Hogwarts Legacy quindi vi invito a visitare il canale mettere mi piace al video se vi è stato di aiuto ma soprattutto un invito a scrivere qua sotto nei commenti se avete bisogno gli altri aiuti detto ciò passiamo a vedere dove si trova questa prova come potete vedere regione di feldcroft vi avvicinano la visuale per comprendere meglio la posizione prova di merlino inoltre partiremo da questo viaggio rapido per comprendere meglio ancora la posizione partiremo da qua utilizzando la scopa magica una volta poi raggiunto il luogo di attivazione della missione vi ricordo che è necessaria la malva se ne avete bisogno ho fatto un video che lo trovate sul canale e ve lo metto proprio qua sotto in descrizione attivata proprio la prova di merlino dovremmo cercare una sfera per farlo utilizziamo la scopa magica tra poco vi farò vedere proprio dove è posizionata inoltre stiamo passando proprio adesso sopra il punto in cui la sfera dovrà rotolare una volta raggiunta questa altezza guardate io utilizzo anche revelio per mostrarvi meglio la sfera vedete si colora di azzurro vedete eccola qua e come consiglio vi do quello di utilizzare con fringo potete utilizzare qualsiasi incantesimo anche ringardium leviosa qualsiasi volete anche di spinta o di attrazione qualsiasi incantesimo veramente perché l'importante sarà riuscire a portare la sfera sul punto che vi ho mostrato prima anche in questo caso io ho utilizzato con fringo vedete dandovi proprio una leggera spinta la sfera inizierà a rotolare nel resto del video la seguiremo fino al raggiungimento dell'obiettivo e vi mostrerò che alla fine se proprio volete potete utilizzare l'ingardium leviosa ripeto anche in quel caso sarebbe bastato utilizzare nuovamente con fringo o ad esempio anche accio qualsiasi incantesimo veramente l'importante è che riuscite come vedrete tra poco a portare la sfera nel punto sotto in questo caso vi faccio vedere come ingardium leviosa detto ciò io spero che il video vi sia stato di aiuto vi ricordo che sul canale ci sono diverse playlist legate a words legacy ma se avete bisogno potete scrivermi direttamente qua sotto nei commenti detto ciao ragazzi un saluto e al prossimo video